Ma io che sono sparita così nel nulla, non mi ero ancora fatta sentire neanche un buongiorno, niente di niente, sentivate un po' la mia mancanza, no, scherzi a parte, oggi giornata di riunioni su riunioni, cosette che stiamo preparando in quel di Milano e quindi niente, non sono proprio riuscita a fare nulla, adesso torno a casa e dai ci aggiorniamo più tardi. Grazie a tutti. La mia mancanza è un sacchetto, non c'è dentro nulla. Nadine, Nadine, ma sei impazzita? Sei impazzita? Mi sembra di essere tornata da tre anni fa quando distruggemi tutto. Nadine? Nadine? Adesso cosa fai? È arrivato l'altro adesso. Nadine? 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 Il pacchetto di ciupa ciupa! Bello! 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 Mamma, che bello vaporoso! Che bello vaporoso questo! Bello! Bello! Bello vaporoso amore! Fate vedere bene, dai, guarda! Fate vedere bene, dai! Bello! Bello vaporetto! Bello vaporetto! Come già vi ho accennato nel post che ho appena pubblicato, quest'anno Barilla ha deciso di mettersi in viaggio per portare a casa delle persone, nelle vostre case, un'esperienza unica con la nuova pasta, fatta per il 100% di grano italiano. Per fare ciò quindi ha lanciato un concorso molto carino, chi vincerà avrà la possibilità di ricevere a casa propria una cena per 10 persone, 10 invitati che sceglierete voi ovviamente, con un menù creato da Chef Stellati, tutto offerto interamente da Barilla. Adesso vi spiego come partecipare, è semplice, ma dovrete usare anche un po' di creatività, perché dovrete scattare una foto con il nuovo pack della pasta di Barilla usando come sfondo il cielo della vostra città, come questa foto che ho scattato io. Caricate quindi le vostre foto sul sito azzurrobarilla.it entro il 3 agosto, scegliendo lo slot temporale e la vostra regione. In un paio ci sono ben 80 cene, le foto verranno selezionate da una giuria e i vincitori verranno contattati direttamente da Barilla. Voi dovrete solo pensare ai vostri invitati, a tutto il resto ci penserà Barilla. Buona fortuna! Grazie a tutti!